Il PNRR Il territorio bresciano ha deciso di unirsi per sviluppare un progetto unico e ambizioso La cittadella dell'innovazione sostenibile Un polo di rigenerazione urbana fondato su un approccio globale che amiamo chiamare pensiero sferico Una cittadella per tutto il territorio dove generare nuove connessioni tra impresa e ricerca Tra produzione e cultura Tra aziende consolidate e giovani start-up Tra università e sistemi scolastici di ogni grado Realizzata all'interno di un'area industriale dismessa La cittadella diventa simbolo di un'innovazione sostenibile Che rigenera un terreno sfruttato e poi abbandonato Valorizzando allo stesso tempo il territorio urbano circostante Aria di co-working, alloggi per giovani e personale di azienda Creeranno un polo attrattivo per aziende digitali e start-up Dove far circolare idee innovative e occasioni lavorative per gli studenti usciti dal ciclo di studi Grazie a laboratori di tecnologia digitale, di elettrochimica, di materiali innovativi e di nanotecnologie Aiuteremo le PMI sul territorio a fare ricerca applicata Le risorse hardware e software del centro di calcolo a loro disposizione Consentiranno l'accesso alla simulazione di caratteristiche di prodotto e di processo Spesso precluso per costi e competenze La sinergia con Cineca e i laboratori universitari Creerà un centro elaborativo di modellazione matematica E concentrazione di contenuti didattici per tutte le scuole del territorio In una rete educativa virtuosa senza precedenti Saranno presenti anche atelier di pittura ed arte, un teatro, bar e servizi Un luogo contaminato dalle forme espressive dell'arte e della cultura Una community con servizi per il territorio attraversata dall'energia dei giovani Una cittadella aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 Per favorire un flusso ininterrotto di contaminazione delle idee La cittadella si prefigge l'alto e straordinario obiettivo di innescare e diffondere un nuovo modello di sviluppo Un nuovo rinascimento Per far rifiorire la nostra capacità di inventare Per far diventare Brescia città della cultura e dell'innovazione sostenibile